Grazie a tutti. 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 di diventare un punto da cui partire magari per visitare siti UNESCO, percorsi UNESCO qua vicini e magari su questo radicevo al sindaco si può anche ragionare su un ecomuseo, vedere come allargare quello che è una rete museale, gli ecomusei sono i musei quelli senza muori, che uniscono la collettività, infatti la cosa fondamentale in qualunque progetto si fa è quello di prendere i cittadini, la collettività, la comunità e renderla partecipe di tutto il progetto e fare un percorso condiviso con loro, infatti anche quando ci sarà la messa a posto per quanto riguarda il finanziamento pubblico della struttura faremo in modo che rimanga aperta, venga fatta blocchi, vengono riaperti, vengono fatte iniziative sia private che pubbliche all'interno perché la fruizione sia condivisa comunque con tutti i cittadini di Alessandria non diventi un posto chiuso e lontano da tutti magari per quattro anni che sarebbe proprio penso la cosa opposta di quello che almeno tutte le persone che ho sentito intervenire qua oggi sperano di poter fare, cioè un luogo che interagisca direttamente con la città in un interscambio che non si fermi mai neanche nel momento di progettazione e di sviluppo del progetto. Poi però parlando di UNESCO credo che si possa riaprire tutto quello che era la discussione in una chiave un attimo diversa rispetto al 2006 proprio del riconoscimento della struttura come UNESCO. Da sola sarebbe difficoltoso per cui lo dico da subito, una delle mie deleghe è quella proprio dell'UNESCO, è difficoltoso perché sono sempre meno i siti che ci permettono di portare avanti perché noi ne abbiamo tantissimi riconosciuti, siamo lo Stato per quelli materiali con più siti riconosciuti. Però si può trovare, parlando ho sentito che comunque c'è già una rete, altre strutture similari in Europa e non solo in Europa. E magari qua l'avevo detto potremmo iniziare con un bel convegno qui, iniziare chiamandolo e facendo un convegno e vedendo come si può imbastire con capofila non l'Italia, con capofila qualcun altro il percorso che possa portare magari al riconoscimento e comunque accendere un faro su una struttura e su una città che penso sia anche quello uno degli indirizzi che comunque ci stiamo dando, uno degli indirizzi fondamentali per far vedere al mondo quanto è bello comunque quello che c'è qua ad Alessandria. Poi dopo c'è la questione pubblico-privato, l'altra domanda o l'altra cosa che forse penso sia l'interesse fondamentale, oltre alle altre due che per me sono fondamentali perché una se non arriva all'investimento di 25 milioni poi era difficile magari fare tutti i passaggi dopo e anche quello dell'UNESCO credo veramente che sia qualcosa che possa portare un più a tutto questo progetto anche se magari il finale del sì o del no è a lungo agitato ovviamente quando si parte con un progetto per un riconoscimento tale, soprattutto se si fa a rete di più stati sono discussioni veramente di anni e progetti di anni, non è che vedono la luce immediatamente. Per quanto riguarda pubblico-privato, io ho chiesto anche agli uffici del ministero, non ci sono problemi, bisogna vedere sotto quale formula farlo, noi in Italia già lo facciamo in altri siti dobbiamo capire e magari capire tutte assieme se fare un consorzio, se fare una fondazione, qual è la cosa migliore per l'agilità anche del progetto stesso come formarlo al meglio. Io per questo ho già detto, magari questa settimana non ce lo facciamo con i tempi di incastrare tutto però questa settimana magari di guardare bene il progetto prima di farlo diventare esecutivo perché dopo quello è quello dei 25 milioni poi incontrarci per discutere sia la questione riguardante l'UNESCO sia iniziare a discutere se è meglio una o l'altra soluzione dell'unione pubblico-privato per cui questo è l'impegno che io prendo dalla prossima settimana, se vogliamo incontrarci iniziamo con tutte queste discussioni. Grazie